Succoloneone Succoloneone, diciamo, è un nome che non è soltanto che fa bellezza, ma fa paura. Oggi le cose cominciano a cambiare, però sono dei passi lenti che... E io rispondo sempre che a Corleone ormai siamo liberi di poter parlare della mafia e dell'antimafia soprattutto. Questi progetti già non è che nascono dall'oggi a domani, ma già ci lavoravano, diciamo, tante persone prima, diciamo, e oggi, diciamo, abbiamo il frutto di loro. Bisogna che tante persone credano in questi progetti per portarli avanti. Dovresti fare per i soldi, facciamolo soprattutto per la passione.